ma poi perchè si mettono a bandiera italiana che si chiamano Tiflad, Dio merda ah il povero razzismo, non c'è più il razzismo di una volta dai po' andiamo eh io lo porto avanti invece il culone 007 tanto c'hanno le MFX pure loro perchè gliel'ha consigliata da qualcuno dei SOS il mio BX è una bomba ora muoio io guarda 3,2,1 qualcuno dal garage ah però sono partiti tutti non ci stanno a FK ma che uscola comunque da arrancare muletto questi sono scudini vengono usati da mid e la mia non partita no non l'ho visto vabbè è l'ultimo vlad e basta ok un headshot troviamo mica è volato cazzo alzato onyx comunque erano tutti a due sono andati tutti a uno da mid non più mid in sports vabbè stanno tutti insieme sono il nostro giusto? si non fa niente ma ne aspetta aspetta Cristian oh cazzo eh dai dio sporco che hanno fatto smirare bello un altro ma è bollo gli piace due ma m'ha pushato slidando cioè dopo non si poteva più girare che cazzo pusha fa? aw mango dropshot come si dice? sei la mia ultima speranza? iovi sera 下 ma la qualche ultima speranza bellissima oh critica bello tutti a due mille headshot con le armi onyx tutti a due sotto le colonne uno invece sta vabbè uno solo ingegnere sta vicino l'acqua tipo sempre colonne però sembra la ripendita la planta subito e vai col tango no però non è male sto deve il ciclo è meglio lo scrive o volete fare un caso italiano massiccio e nei buccare guardali guardano tutti nello stesso punto ma perché non sanno un cazzo di spot troppo sei a zero e tre no mi ha distrutto con l'altro è bravo del ciclo ahahah fate le slide che il ragazzo secondo me ma usato per questo tipo su manna o lo snor ahahah ma lo snorke fino a 4 e minchia per giocare col controller era veramente bravo grazie al cazzo era controllo ah no nooo eh sta cazzo di skin ha rotto le palle ahahah ma si vede il nemico guardate ah si eh si ma io non guardo mai il nome capito io si fa vero il movimento questi vanno tutti niente ve lo dico io si ecco io c'avevi ragione cristiano ma ormai li conosco i miei polmi mamma mia niente niente micchia tritati proprio cioè uno con noi sta facendo un salto a due andiamo sopra pangrattato ancora 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 non proprio come prima ha fatto nicolone intanto polarshan c'è neri a mid tipo polarshan c'è neri a mid tipo no no era one tap no no era one tap no no i coptmatter ho provato a fare one tap con la walter ma non è andata ah io tipo avevo pushato tranquillo camminando e così decidi tutti andare si perchè ora vengono qua nooo ah raga ora è il momento di fare i one tapini qua senzione sono on fire dove hai arrestato sotto sotto casa c'è un pico tra la smoke drip and dip chiede il surrender yes mettiamolo sopra a sinistra aspetta kiri che ora proviamo lo spottino aspetta kiri che ora proviamo lo spottino c'è tu mi vuoi dire che è quello da qua ma quanto ha fatto ma porca dio che cazzo è gesù cristo mi dispiace perchè era pure buono ma comunque scrivetegli voi qualcosa così facciamo un bel fritto misto qua no vabbè solo lui guarda 2-7 come lo sai come lo sai come lo sai vabbè ma che c'entra magari sono forti ma hanno fatto una partita di merda a parte quei due che stavano guardando sopra anti sgaro 10kd quindi non